bella a tutti ragazzi siamo qui ritornati qui oggi in un altro nuovo video sono sempre io gibby e oggi come avete visto siamo su il mio deck scusate su clash royale gibby 2 king royale royale king scusate e questo qua il mio clan è il mio clan con i miei amici questo qua è il mio deck che vorrei anche cambiare però non so non so a me mi piace così oggi andremo a farci qualche due contro due partita veloce perché non c'è nessuno sul mio canale libero arena elettrica unici justin un bel deck un bel jack un bel deck justin parte subito così noi possiamo mettere solo questo lì buono bravo 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 giustin giustin basta attaccare basta giustin tante di qua scarica ho sbagliato la torre ci riuscivamo dai 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 princess gli stiamo facendo fuori quasi la torre intanto ragazzi come avete visto sono riuscito a a portarvi questi video di clash dove ne porterò anche di fifa moonlight perché i miei amici che ovviamente mi seguono vogliono quello quindi vi accontento se mi state seguendo e io vi accontento e farò altri video in futuro oggi diciamo che non dico che non posso dico la verità dico che non ho voglia oggi di fare perché è anche sono anche un po stanco oggi quindi ho fatto visto che sono riuscito a filmare lo schermo cioè ho trovo almeno ho voluto fare subito un video per cioè per provarlo per provarlo dai 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 che non c'è neanche non ci avrei ancora toccato torre buono bello 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 dai falla fuori la mongolfiera è fatta fuori ovviamente ci sono sicuro che voi conoscete tutti che lei sono rialzi voi vedrete che se guardate adesso il mio nome di b2 perché perché questo qua il telefono di mia mamma sto registrando dal suo il mio l'ho lasciato a casa a casa di meno dei miei nonni farò anche una live farò una live un giorno se avrò tempo farò anche la intanto stiamo vincendo la fortuna della live della live scusate del per registrare perché molte volte io perdevo quindi vediamo dai che facciamo per tutto dai 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 l'abbiamo fatto fuori raga abbiamo vinto tre abbiamo fatto abbiamo fatto tre corone un baule d'oro vediamo se gioca molto bravo felicità accettata buono intanto buono dopo apriamo il baule e la corona piccoli acciato bravo Justin anche la cimitero non l'avevo visto forse l'ho messa anche adesso wow sono iniziati bene ma sono gli stessi? sembra gli stessi ragazzi ci siamo difesi bene abbastanza bene dai buttalo giù dai mettiamo la tornado scarica dai fallo fuori dai fallo fuori fallo fuori meno grande oh cavolo oh cavolo credo che perdiamo no Justin no no Justin difendi non attaccare Justin difendi mi sa che questo l'abbiamo proprio perso abbiamo vinto e le perdiamo forse ci riusciamo a salvare dai abbiamo 391 niente questa qua è persa solo un minuto un minuto e mezzo abbiamo è da tanto tempo che io non faccio video sull'adrenalinx infatti come si chiama il mio canale e niente abbiamo perso ragazzi non so perché no e ormai le adrenalinx non si trovano tanto niente abbiamo perso intanto guardiamo nel football che c'è infatti vedete anche che sto registrando da cosa aspettarsi dal weekend di sere b e non a genuine e spal e spal per sturaro boh e usciamo basta con Justin ok intanto mettiamo sblocco tra poco tra poco prenderemo il baule leggendario perché qua non ho ancora una leggendaria si sono abbastanza sfortunato oh un pecca e niente ragazzi intanto da quanto è tempo è che possiamo sei minuti non ho fatto due live anzi prenderemo vabbè il baule fortunato che non è chi lo sa forse un giorno e anche questo forse però lo scioperemo quando ci sono carte quelle fortunate di oggi cioè quando ci saranno anche qualche leggendaria ragazzi il video si conclude qua grazie se stati con me ciao